Oggi proporremo un servizio sul Pozzo di Monnafarina. Siamo qua in compagnia del dottore Enzo Castellano e dell'amico Angelo Cacciatore. Allora, questa zona Monnafarina, là in fondo potete vedere la casa del Leone. È la galleria che è stata fatta per unire dei laghi Fanaco e il Leone passa presto a poco sotto questa casa Leone. Il Pozzo Monnafarina è presto a poco, pochi metri più distante della direttrice della galleria. Con la creazione della galleria sono uscite mille passalitri d'acqua al secondo in un certo periodo e contemporaneamente si è avuto l'abbassamento del Pozzo Prisa, dove il Comune di Santo Stefano prende l'acqua, di ben 13 metri in una settimana. Questo sta a dimostrare che il bacino è unico. Prima, per esempio, c'erano migliaia di animali, di bovini, ovini, molto allevatore e andavano a beverare l'abbeveratoio e c'era l'acqua sufficiente per tutti. Ora ce n'è neanche il 10% e non sono più idonei questi abbeveratoi a dare a soddisfare gli animali. Da quanto hanno fatto questa galleria Leone Fanaco, si è notato questo abbassamento. Fra l'altro non c'è neanche dove andare a prenderla, questa acqua. Non è che anche con l'autobot c'è un punto di riferimento di poter andare. Rischia di chiudere tutte e andare a chiedere le lemose. Il bacino, chiamiamolo della Quisquina, ha una capacità di 48,5 km2. Si estende per Serra Moneta, Serra Quisquina e Serra Leone. Lo sfogo naturale di questo intero bacino è stata da sempre la Capofavara. Nei tempi passati questa sorgente Capofavara, che serviva al comune di Santo Stefano Quisquina, è riuscita a dare anche 300 litri d'acqua al secondo, ma la media era attorno a 60 litri l'anno. Le sorgenti sono state tutte sorgenti naturali, quindi la Capofavara, le sorgenti del Voltano. Ci può fare un'analisi di questo bacino negli anni? Cioè, che cosa ha subito nel corso degli anni questo bacino? Allora, questo bacino è stato attaccato da sempre. Già nel 1911 le ferrovie dello Stato avevano fatto una richiesta di emungere 50 litri al secondo per i propri scopi. Nel 1961 hanno realizzato, la Montecatina ha realizzato due pozze di margemuto. E si è avuto subito un'interferenza con la sorgente Capofavara. Negli anni successivi la Capofavara diminuiva sempre. Contemporaneamente è stato messo del colorante all'interno del pozzo, colorante che è uscito direttamente dalla Capofavara. C'è stata una rivolta popolare, quindi alla fine la Montecatina è stata costretta nell'82 a chiudere i pozzi. Successivamente c'era stata un'altra richiesta da parte del Voltano, dell'apertura di nove pozzi nel bacino, più una galleria che unisse il lago Leone con il lago Fanaco. I pozzi non sono stati fatti perché le asse si è opposte da sempre. La galleria negli anni 90 è stata realizzata. Si è venuta a intercettare la falda del bacino della Quisquina. Si è avuto una fuoriuscita esagerata di acqua. Si è arrivata anche a 1.400 litri d'acqua al secondo. Contemporaneamente il pozzo Prisa, da dove ora il comune tira l'acqua per servire il paese di Santo Stefano, si è abbassato di 14 metri in una settimana. Si è accennato al fatto delle problematiche che nascerebbero nel caso in cui ci sia la trevellazione di altri pozzi. Per ora si sente parlare di trevellazione di pozzi a Monna Farina e riapertura dei pozzi ex Monte Catine. Tanto è successo, quando è uscita quest'acqua dalla galleria, si sono perse quasi quattro anni di riservi d'acqua. E' contemporanea, dopo qualche anno, o pochi anni, dalla fuoriuscita dell'acqua dalla galleria, si è venuta a creare all'interno di Santo Stefano un problema di stabilità. Il pericolo quale può essere? Il pericolo può essere che essendosi abbassata la falda, si può arrivare a dei livelli, chiamiamoli livelli geologici, in cui bisogna stare attenti a immungere ancora acqua. La galleria è stata scavata all'altezza proprio, Monna Farina. Passa, presto a poco, sotto le case Leone. Io sento parlare di scavare il pozzo e tirare già 45 litri. Normalmente si fanno le ricerche, si scava il pozzo, poi si fanno le prove di portata. In base alle prove di portata si decide quanto tirare e se è possibile tirare. Nell'agrigentino, nella richiesta di riattivare i pozzi Montedeson, Margemuto, e tirare 100 litri d'acqua al secondo. Con 100 litri dal secondo è sicuro, secondo me, il pozzo Prisa finisce. Iniziamo un po' a portare a conoscenza i cittadini di quelli che sono stati gli atti portati avanti in cui si parla, diciamo, nello specifico del pozzo Monna Farina. Iniziamo appunto dal 2020, il piano d'ampito dell'ampito territoriale ottimale della provincia di Agrigento. Leggiamo ciò che a noi interessa, che la ricognizione effettuata ha permesso di determinare come il pozzo Margemuto e il pozzo Monna Farina non siano in uso da decenni, però le risorse sono potenzialmente utilizzabili a scopo potabile, previa risistemazione delle opere di adduzione. Successivamente, nel 2022, la situazione relativa all'approvvigionamento idrico dell'ampito territoriale ottimale di Agrigento e alla conseguente necessità di reperimento di nuove fonti di approvvigionamento idropotabile, una delle quali è stata individuata nel pozzo Monna Farina, quale fonda assegnata a lati di Agrigento. Considerata la necessità e l'urgenza di intervenire al fine di garantire la realizzazione e la messa in esercizio del pozzo per uso idropotabile è relativa a pausa in opera delle condotte di adduzione fino all'interconnessione con l'ex sistema di adduzione del voltano. Con questa determina, del direttore del lato, viene nominato il RUP. Quindi già dal 2022 quel pozzo inizia a essere interessato addirittura con la nomina del RUP. Viene approvato nel 2023 nuovamente il piano ad ambito che riguarda appunto il 2023. Il riporto è che da una ricognizione effettuata, i pozzi di Contrada Senteria, il pozzo Margimuto e il pozzo di Monna Farina. Tenere conto ancora dell'utilizzo di queste fonti di approvvigionamento. Con il verbale del 12 dicembre del 2023, il direttore del lato di Agrigento fa rilevare che il lato di Agrigento ha redatto un programma di interventi. Fra questi interventi è previsto il pozzo Monna Farina con un prelievo di 35 litri al secondo. Con un successivo verbale del 28 dicembre, il direttore del lato di Agrigento di aver richiesto ad AICA il progetto di fattibilità tecnico e economica per l'approvvigionamento del pozzo Monna Farina. L'AICA comunica che entro gennaio del 2024 sarà affidato l'incarico e dentro un paio di mesi sarà disponibile il progetto pozzo e condotta di addizione. Con un verbale del 10 di gennaio, tra le misure di mitigazione poste in essere, risulta solo l'avvio della progettazione del pozzo Monna Farina. Quindi non sono state individuate altre fondi attivabili immediatamente. Un verbale di seduta del 25 gennaio del 2024, sempre fra gli interventi a medio termine per la realizzazione del pozzo Monna Farina, con la realizzazione della condotta di avvicinamento che potrebbe fornire 45 litri di acqua al secondo. La seduta del 27 febbraio 2024, il direttore dell'ati Agrigento fa rilevare che presenta una criticità relativa ai 5 chilometri di condotta da realizzare per collegare il pozzo dell'acquedotto. Successivamente, nella seduta del 30 di aprile, il direttore tecnico del soggetto gestore AICA fa rilevare infine che entro pochi giorni i progettisti incaricati dovrebbero consegnare il progetto della realizzazione della trivellazione del pozzo di Monna Farina ed è il relativo acquedotto di interconnessione con il sistema. Questa sarà un'opera un po' più grossa rispetto ad altre. è stato un finanziamento della cabina di regia per circa 5 milioni di euro e che potrebbe recuperare circa 50 realizzazioni al secondo da immettere nel sistema voltano e quindi servirebbero per compensare parzialmente gli ammanchi del sistema fan. è una seduta che è quella relativa al 26-6-2024. Quindi il tecnico del Lati fa rilevare che sono in corso di redazione i progetti esecutivi per il pozzo Monna Farina. Possiamo vedere due documenti ufficiali. Uno è appunto il piano d'ampi dove chiaramente si rileva che il pozzo Monna Farina riporta il codice finale P008 mentre nella determina del 16 il codice P008 è attribuito al pozzo Monna Farina. Quindi come ben si evince c'è questa incongruenza che chiaramente va chiarita. Questi sono tutti gli atti, tutti i documenti in parto, onestamente vi devo dire perché era inutile elencare altri elementi, altri dati, oltre altri verbali perché comunque da qua si vince chiaramente l'attenzione che c'è stato mese per mese su questo pozzo è l'evoluzione in termini anche di realizzazione che c'è stato. Grazie.